Equilibrium Academy è da anni leader nella formazione in aromaterapia per personale medico e sanitario. Abbiamo creato moduli SMART per portare la nostra alta professionalità in tutte le vostre case in modo facile, rapido ed economico. La formazione è in 7 moduli di 2 ore e mezza ciascuno, online, con docenti altamente qualificati nel campo della medicina, della fitoterapia e della ricerca scientifica. I nostri corsi sono riconosciuti dall'Associazione Svizzera di Aromaterapia Clinica. Grazie 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 Grazie